Il piano strategico metropolitano sta per essere approvato e prevede interventi massicci con finanziamenti direttamente agli enti locali per lo sviluppo del territorio. Qual è la sua opinione a proposito di questo piano? Io sono totalmente felice ed entusiasta di questa iniziativa presa dalla città metropolitana. Oggi sono arrivato qua per induzione perché prima sono passato per Via Don Bosco proprio a presentare al consigliere delegato un progetto cantierabile che è finanziabile nell'ottica del piano strategico. Per cui veniamo da un incontro che è stato piacevolissimo perché oltre a quello che immaginavamo e sapevamo per sentito dire abbiamo appreso notizie ancora più confortanti legate alla facilità di accesso a questi fondi. Per cui era una cosa che era dovuta, i piani comunitari regionali sono sempre molto farraginosi, delle procedure incredibili. Qui parliamo effettivamente di soldi disponibili, le puntualizzazioni sono state opportune, i soldi disponibili di un avanzo di amministrazione che viene spalmato in maniera importante sui comuni. E sui comuni piccoli come il nostro è ancora più manna piovuta dal cielo. Quindi voglio dire che questo è un contributo importante per i comuni di piccola entità. Io sarei veramente, non sarei leggero nel dire vabbè è poco, è una goccia in un mare. No, questa è veramente una secchiata in un contesto in cui c'era tanto bisogno. Noi abbiamo dei progetti cantierabili perché ci siamo sempre portati avanti sulla progettualità. La progettualità non è nemmeno tanto costosa perché se c'è la volontà i progetti si fanno. Poi si cerca la fonte anche per finanziare la progettazione. Il sindaco ci ha chiarito che la progettazione è finanziata da questa misura. Quindi è una cosa bellissima di cui veramente sono contentissimo. E voglio aggiungere solo un'altra cosa che abbiamo un progetto cantierabile, ne abbiamo più di uno ma abbiamo anche tanti preliminari che con questa misura della progettazione può darci veramente tanto... A proposito di progetti, quale progetto pensa sia particolarmente importante che si sia finanziato con questi fondi? Innanzitutto noi pensiamo alle scuole perché la scuola è quello da cui tutto nasce. È l'embrione della cultura, del vivere nella società. Per cui noi pensiamo ad avere delle strutture scolastiche adeguate, sismicamente adeguate, anche per volte positivamente alle fonti di energia rinnovabili, fare strutture che poi riescono anche ad avere un risparmio energetico. Delle strutture veramente innovative al passo con i tempi. Pensiamo ad una grossa scuola che abbiamo già, per cui ci completerebbe questo ciclo, l'abbiamo appena resa antisismica nella sua totalità, quindi abbiamo fatto tutti gli accorgimenti del caso. Adesso questa scuola si potrebbe trasformare in un grande polo, anche tecnologico e innovativo, abbiamo un progetto mirato, cantierabile. Abbiamo dei progetti anche di viabilità che potrebbero interessare l'altro aspetto, quelli dei 100 milioni destinati ai comuni ma alle proprietà provinciali. Abbiamo una strada provinciale con un progetto importantissimo che ci permetterebbe di rendere quella strada fruibile al turismo di accesso al Vesuvio. Pensiamo a delle piste ciclabili, pensiamo a dei momenti di intrattenimento turistico su una strada che è panoramicissima, che è alle spalle al Vesuvio e davanti c'è tutta la costiera sorrentina, Capra in bella vista. Potrebbe essere un percorso turistico importante, dove la gente, illuminandola, la gente a sera si potrebbe fermare a fare un aperitivo, a consumare un pasto in totale relax e soprattutto con delle piste ciclabili, utilizzabili per fare sport, per fare semplicemente delle passeggiate piacevoli in compagnia della famiglia. Abbiamo anche altri progetti legati alla formazione dei ragazzi, quella proprio per cui la provincia è addetta agli istituti superiori. pensiamo ad avere un istituto che metta assieme le professioni agricole e turistiche, un istituto che formi i giovani per quelle che sono le nostre reali vocazioni, la vocazione del nostro territorio di tre case principalmente, e agricola turistica. Ma non lo dico perché sono le vocazioni di tutti i comuni, perché noi ci troviamo, siamo diventati in questi giorni, un presidio di slow food con il pisello 100 giorni ed è importantissimo, uno dei pochi comuni dell'area vesuviana che è un presidio slow food di una cosa che partirà alla grande. Abbiamo un museo dell'arte contadina che è di prossimo avvio, saremo una stazione per l'accesso al gran cono da parte di tutti i servizi turistici che partono dalla costiera sorrentina, arrivano agli scavi, passano per tre case, si fermano e vanno all'accesso. Siamo in un territorio fantastico dove formare i giovani per le professioni agricole e turistiche permetterebbe innanzitutto di non avere più tutti questi terreni abbandonati, perché potrebbero essere interessati proprio dalla riorganizzazione da questi giovani che oggi hanno molta più volontà, però gli dobbiamo offrire i mezzi e gli strumenti. E trovo che questo piano strategico è un'azione fondamentale che poche persone hanno avuto il coraggio di fare, quindi grazie alla città metropolitana, grazie al sindaco De Magistris e grazie a tutti i consiglieri che hanno dato forza a questo piano, lo dico con una totale ed estrema sincerità.